Salve, volevo ringraziare il direttore generale della Global Time News Agency Europe Organization, Ikra Mudin, per avervi dato la bellissima possibilità di avere degli articoli molto belli, molto particolari. Svolgo un grande lavoro professionale come giornalista e sono molto contento di averlo conosciuto. Voglio deliziare tutti quelli che stanno ascoltando questo video con questa bella esedizione canora. Grazie a tutti. Sottili emozioni vibrano sopra i confidi e poi anima. Verso te la libertà dei tuoi attimi, vivo di te, vivo di noi, vivo di te nella notte.